Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Isabella Mancini. Si segnala in A1 Firenze-Roma traffico rallentato per la perdita di carico nel tratto compreso tra Arezzo e Valdarno in direzione Firenze. Personale su strada sulla Firenze-Pisa-Livorno all'altezza dello svincolo di Cascina per lavori in entrambe le direzioni. In A11 veicolo fermo tra Prato Oeste e Prato Ovest in direzione Firenze, sempre sulla A11 perdita di carico accidentale nel tratto compreso tra l'allacciamento della 12 Lucca e quello a 12 Pisa in direzione Pisa e anche tra Lucca e Capannori in direzione Firenze. Traffico intenso sulla strada provinciale 39 tra Castiglioncello e Rosignano-Solvein in entrambe le direzioni e sulla strada statale Aurelia tra Lido di Camaiore e Viale Luigi Einaudi. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!